6 soggetti, facciamo un applauso intanto a questi soggetti Tu nome? Puoi darmi il microfono per cortesia? Allora, tuo nome? Gina, Linda, Federica, Lidia, Natalia e Francesco Bene, io non credo che ricorderai vostri nomi ma non c'è nessun problema Comunque intanto sappiamo come si chiamano Allora, Gina Voglio che guardi attentamente la mia mano La vedi? Attenzione perché tra un momento avvicinarò la mano alla tua fronte Non appena il mio indice toccare la tua fronte Cadrai in uno stato di trance completamente rilassato, ok? Segui il mio dito senza muovere la testa Solo con gli occhi non appena scomparirà dalla tua visuale il mio dito Chiuderai gli occhi, credo in trance Completamente rilassato Rilassata Bene, così via Completamente rilassata Bene C'è rimasto con le mani legate? Perfetto? Non è? Federica? Rilassi vedere quella... Fissa un punto là in fondo, ok? Intanto steghiamo le mani Puoi scioglierle, benissimo Perfetto Fissa un punto là in fondo E continua a fissarlo E più lo fissi E poi i tuoi occhi si stancano Sei sempre più stanca Sempre più rilassata Più lo fissi e poi i tuoi occhi sono stanchi Sono sempre più stanchi Che quando vorrai chiuderlo, li chiuderai E cadrai in uno stato di rilassamento totale Completamente rilassata Quando vorrai chiuderlo, li chiuderai Sarai completamente rilassata Rilassata Sempre più rilassata Chiude pure gli occhi E torni Completamente rilassata Bene, così E il nome è Lidia Lidia, osserva attentamente la mia mano Perfissi vedere le linee della mia mano Mentre la mano si avvicina Vedrai le linee sfocarsi E più si sfocano E più i tuoi occhi saranno stanchi Sempre più stanchi Non appena vedrai cambiare La messa a fuoco delle linee I tuoi occhi saranno sempre più stanchi E sarai sempre più rilassata Chiuderai gli occhi E cadrai in uno stato di rilassamento totale Completamente totale Completamente rilassata E dormi Tormi Completamente rilassata E rilassata Bene, così Non è? Linda Linda, sei mai stata E' utilizzata con una stretta di mano? Mai in assoluto Io intanto mi chiamo Davide Guarda Linda Vedi le linee della tua mano E vedi? Osserva attentamente Fissa un punto della tua mano Fissa un punto Sei sempre più rilassata Sempre più rilassata 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 No? No Facciamo un applauso È stata Non è un applauso È rimasto di rilassare Una applauso ancora Come vedete Festa Qualcosa di Signora? Signora Natalia Natalia Guardate Damietti Mi ha detto Non appena topperò la tua fronte Cuidere agli occhi E sarai in uno stato Di allessamento Totale Sempre più rilassata Non appena topperò la tua fronte Cuidere agli occhi E dormi Completamente rilassata Rilassata E su nome? Francesco Un applauso Grazie 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 Puoi passare di qua La prima tesia Prendi la mano Io mi chiamo a Davide Tu nome? Francesco Quello che pensi Che segue la mia mano così I tuoi occhi sono sempre più stanchi Francesco Sei sempre più rilassata Sempre più rilassata Sempre più stanchi I tuoi occhi sono sempre più stanchi Sempre più stanchi Non appena sento Desiderio di chiedere gli occhi E sarei sempre più rilassato Sempre più stanchi Sempre più rilassato Sempre più rilassato Quando scopperò le dita Chiedere gli occhi E dormirei Completamente rilassato Rilassato E rilassato Bene così Ora I nostri soggetti Si trovano in uno stato di ipnosi E continueremo Con l'approfondimento Dello Stato Dello Stato Dello Stato Dello Stato